Il nostro giornale è completamente dedicato alla Convenzione sui diritti dell'infanzia che fu approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. Essa esprime un consenso su quali sono gli obblighi degli Stati e della comunità internazionale nei confronti dell'infanzia. Tutti i paesi del mondo oggi aderiscono alla Convenzione. 194 Stati, ad eccezione degli Stati Uniti, hanno rettificato questa Convenzione. La Convenzione è uno strumento giuridico in riferimento a ogni sforzo compiuto in 50 anni di difesa dei diritti dei bambini e composta da 54 articoli. La creazione della Convenzione è ricordata ogni anno il 20 novembre con la commemorazione della giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Vediamo. Un anno da garante, c'è attenzione per i bambini in Sardegna? Certamente c'è tanta attenzione per i bambini in Sardegna. È un compito bellissimo che tra l'altro è toccato anche a me come garante ed è molto impegnativo. È chiaro che le difficoltà sono tante e di vario genere. L'impegno delle istituzioni c'è stato e ci sarà ancora. Il sistema è ancora perfettibile, nel senso che da quello che ho potuto verificare c'è uno scarso collegamento fra le reti. Un mio obiettivo sarebbe stato quello da garante di poter intervenire, ma in senso positivo, per far sì che qualunque provvedimento della nostra regione fosse preso, fosse un provvedimento che in qualche modo teneva in considerazione l'interesse del bambino. Ci stiamo lavorando. Per quanto riguarda il mio impegno, in quest'anno è stato un impegno, o in questi anni direi, prima di verifica della situazione. Abbiamo dovuto impegnarci positivamente per fare i corsi per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e abbiamo provveduto e pare che l'aver formato dei tutori volontari abbia inciso positivamente sulla vita di questi ragazzi, rendendoli più partecipi e più vicini ai doveri di cittadino che dovrebbero avere. Questo per un impegno che è chiaramente non solo umanitario ma doveroso secondo le convenzioni internazionali, ma un impegno che in qualche modo probabilmente ci renderà in positivo ciò che abbiamo speso per accoglierli, nel senso di avere quella commissione positiva fra diciamo culture, caratteristiche di etnia, storia, che è il futuro dell'uomo. Diciamo che in ragione di ciò che poi è il mio compito ho preso in mano tutto quello che era il problema della scuola per verificare amaramente, devo dire, che la Sardegna è una delle regioni che ha il più alto tasso di incidenza di abbandono scolastico, anche se dai dati, dati dall'Istat, appare che la Sardegna sia quella che ha avuto il maggior scarto in positività in questi ultimi anni. L'abbandono scolastico a me fa molto paura come garante ovviamente perché ho paura e ho cercato di sondare anche di poter verificare che questo sia collegato a un lavoro sommerso minorile, nel senso che a fronte di una povertà economica di molte delle famiglie del nostro interno ci sia una scarsa fiducia in quello che la scuola può dare e invece un impegno o comunque una volontà di impiegare al più presto i ragazzi come era un tempo nel lavoro. Oggi il 20 novembre si celebra una delle ricorrenze più importanti e significative della storia moderna, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In questi ultimi 30 anni l'UNICEF si è spesa in tutto il mondo, in Italia, nei paesi più poveri, nei paesi emergenti, in modo che la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza venisse applicata e venisse promossa. In 30 anni è stato fatto tantissimo, grazie all'intervento delle associazioni di volontariato milioni di bambini sono stati strappati alla fame, alla sete e alla morte, però ancora c'è tantissimo da fare e oggi il trentennale è l'occasione per rilanciare una battaglia, un impegno di tutto il mondo e degli adulti a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. Anche in Italia ci sono frange di violazione dei diritti e stiamo facendo l'impossibile e l'impossibile perché i bambini vengano comunque i titolati. L'approvazione ufficiale viene sottoscritta nel 1989 da tutti i paesi del mondo. Anche l'Italia fa la sua parte ratificando lo stesso documento il 27 maggio del 1991 con la legge 176, un testo giuridico fondamentale per il riconoscimento dei diritti civili, sociali, politici, culturali e economici. Un percorso lungo, trent'anni, tra successi e non. Allora le criticità è chiaro che permangono in quanto ci sono diversi angoli del pianeta in modo particolare nei paesi teatro di guerra dove i diritti dei bimbi e dei minori sono violati. Anche nel bacino del Mediterraneo sappiamo quello che è successo in questi ultimi anni dove decine e decine di bambini che scappavano da situazioni di guerra e di famme purtroppo hanno conosciuto anche la morte nel nostro mare. I successi sono stati invece, il fatto che grazie per esempio ai vaccini migliaia di bambini sono stati strappati alle malattie tipiche dell'infanzia, moltissimi bambini hanno potuto proseguire gli studi e essere alfabetizzati, sono stati fondati e costruiti tantissimi pozzi e tantissimi luoghi dove i bambini possono ancora vivere la gioia dell'infanzia. Ma la vera sfida rimane sempre la stessa, sensibilizzare al rispetto dei più piccoli partendo proprio da loro stessi. Sicuramente nella scuola e nella sanità. La scuola, come ho già detto prima, è il vicolo migliore perché i nostri maggiori e migliori testimoni sono gli stessi bambini. Gli elaborati che hanno prodotto ci hanno molto colpito perché hanno saputo rappresentare il concetto di diritto e il concetto di diritto violato. Ma in una visione meno ampia della situazione dell'attenzione dedicata ai bambini in Sardegna, come si sta evolvendo? Ci sono sacche di diritti negati anche in Italia e anche in Sardegna. Con Zona Franca oggi apriamo una parentesi, ed è la parentesi che ci ha già comunato con altri servizi. Stiamo parlando di minori. In questo caso facciamo un discorso un po' specifico sui minori che cercano protezione, che magari all'inizio la trovano, poi la perdono. Ma comunque stiamo parlando di un mondo di poco garantiti. Sergio Nuvoli si occupa da tempo di questo problema perché ha una sorta di carica. Qual è? Vengo nominato periodicamente tuttora legale di minori stranieri non accompagnati. Un lavoro improbo, anche perché la legislazione cambia continuamente. E con la legislazione, anche le aspettative delle persone che mandano spesso i minori qua a cercare fortuna e che poi alla fine invece trovano soltanto disgrazie e dolori. Sì, parliamo dei più poveri tra i poveri o dei bambini più fragili rispetto a tutti gli altri bambini. Nella maggior parte dei casi si tratta di adolescenti che vengono mandati qui e che arrivano sulle nostre coste da soli, appunto sono minori di età, non hanno con sé i propri genitori, non hanno dei parenti e qualche volta vengono mandati qui come letteralmente forza lavoro o in cerca di lavoro che magari non trovano per poi poter mandare quattro spiccioli indietro alla propria famiglia. Sono dei bambini che fanno le attraversate, spesso sono quelli che non hanno genitori, forse sono morti durante il tragitto, invece no. Sì, ragazzi che hanno visto la morte in faccia durante la traversata in mare e che poi è preceduta spesso dall'attraversamento del deserto prima di arrivare in Libia e potersi imbarcare. Hanno a casa, in qualche caso hanno lasciato i genitori, in altri casi sono orfani di entrambi i genitori e si sono dovuti sobbarcare il peso di un tragitto e di una traversata in mare molto pericolosa per poi arrivare appunto sulle nostre coste ormai stremati ma con la speranza di trovare una vita nuova. Sono minori, non pensiamo chiaramente che lo abbiano fatto con la loro coscienza o con la loro voglia di cambiare aria, sono stati costretti a prendersi i barconi. In qualche caso sì, in altri casi sono ragazzi che appena si sono resi conto della situazione che vivevano sono scappati volontariamente da casa. A quanti anni? A 15-16 anni, qualcuno anche a 14 e arrivano appunto sulle nostre coste con una speranza e un progetto di rifarsi una vita perché magari a casa loro il padre o uno dei genitori è morto e quindi la loro unica speranza è cercare fortuna da altre parti. E a 14-15 anni sono già in grado di ragionare in maniera tale da poter emigrare? In qualche caso sì, in altri casi invece sono oggetto di un progetto dei propri genitori che li considerano come forza lavoro da mandare appunto lontano in modo che poi possano mandare qualche soldo a casa tramite Western Union o altri sistemi. Stiamo parlando dei pocket money, cioè di poche lire. Di pochi soldi che in qualche caso vengono loro dati, ma nella maggior parte dei casi invece si tratta di ragazzi che comunque vengono, grazie al sistema di accoglienza che esiste in Sardegna, vengono inseriti in comunità di accoglienza tipicamente per loro, gli viene insegnata la lingua italiana, vengono avviati alla scuola e in qualche caso fortunatamente sempre di più anche a un tirocino lavorativo. Da qualche tempo questi sbarchi, ma questo vale anche per gli adulti, non si verificano più se non con i barchini dall'Algeria. Quindi anche il numero dei minori stranieri non accompagnati presenti in Sardegna è diminuito. Attualmente parliamo di una cifra intorno agli 80 ragazzi. 80 ragazzi che devono naturalmente anche fare i conti con quello che succede qua in Italia, cioè i cambiamenti di rotta, la politica che a volte riesce a trovare un briciolo di umanità e a volte invece ha delle chiusure nette. In questo caso c'è un'emergenza che è dettata dal fatto che i decreti sicurezza, comunque la si pensi, hanno eliminato la protezione umanitaria che consentiva di assicurare adeguata protezione in particolare ai neomaggiorenni, cioè a quelli tra questi ragazzini che arrivavano in Italia appunto da minorenni. Al compimento della maggiore età gli si poteva assicurare protezione attraverso la protezione umanitaria, che è stata eliminata dai decreti Salvini, creando in questo caso un vero e proprio buco nel sistema di accoglienza, perché in alcuni casi si verifica una situazione in cui il ragazzo arriva, impara l'italiano, inizia un percorso di inclusione e di integrazione effettiva nel nostro paese, dopodiché al compimento della maggiore età non gli viene rinnovato il permesso di soggiorno, perché il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie non esiste più e loro rischiano di diventare dei fantasmi, girando nelle nostre città senza documenti e finendo facile preda della malavita. Nella tua vita quanto tempo è che hai preso questa missione? Perché in realtà non è un lavoro, è una missione. Sì, ho cominciato nel 2007, come me oggi grazie alla legge 47, nota anche come legge Zampa, che ha finalmente introdotto nel nostro ordinamento la figura del tutore volontario di minori stranieri che hanno accompagnati, ci sono decine di cittadini, di privati cittadini, che hanno dato la disponibilità anche in Sardegna per svolgere questo ruolo ed è un ruolo che svolgiamo in maniera totalmente gratuita, totalmente disinteressata, ritagliando il tempo nel nostro tempo libero per verificare che tutto il sistema di accoglienza che esiste in Sardegna, lo ripeto, e funziona anche bene, faccia il suo compito, il suo dovere intorno a questi ragazzi. È tutto, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.